ben ritrovati ad impresa e territorio il nostro viaggio nelle start up ospitate negli spazi chioccia di trentino sviluppo ci porta oggi a conoscere due giovani trentini che hanno un'idea di impresa piuttosto originale vediamo chi sono e di cosa si tratta io mi chiamo filippo pisoni 30 anni e sono di trento e sono un perito industriale che da una decina d'anni lavora nelle assicurazioni sono effronto nezzere insieme al mio socio filippo pisoni abbiamo pensato di avviare un'idea di impresa basata sul utilizzo di un generatore elettrolitico per produrre un gas particolare e sviluppare delle saldatrici per i piccoli artigiani e potenzialmente in futuro andando ad affinare queste tecniche rivolgersi al mercato dell'automazione industriale un progetto che parte da un'idea di sostenibilità ambientale e che è molto particolare perché riprende uno strumento tradizionale la saldatrice e lo reinterpreta completamente rendendolo riutilizzabile anche in lavorazioni con materiali diversi dai metalli negli ultimi anni si sono sempre più sviluppate le tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili grazie anche ad una legislazione volta alla riduzione dei consumi energetici per contrastare il progressivo esaurimento dei combustibili fossili il panorama che si delinea in questo contesto nel prossimo futuro suggerisce una crescente integrazione di piccoli generatori di energia nell'attuale rete questa è una saldatrice molto particolare perché utilizza una fiamma fredda che non ha un grande calore ad esempio se noi possiamo pensare di passare la mano all'interno della fiamma di questa saldatrice senza rischio di ustioni perché la temperatura è inferiore ai 100 gradi centigradi con le saldatrici tradizionali noi abbiamo una temperatura di fiamma che è costante questo ci impone dei limiti riguardo a quelle che sono le lavorazioni che possiamo andare a fare ad esempio con una saldatrice ossiacetilenica abbiamo una fiamma che raggiunge circa i 3000 gradi e andare a lavorare su dei metalli con delle temperature di fusione molto basse può risultare problematico perché si va a bruciare il metallo piuttosto che ad avere comunque degli effetti negativi su quella che è la la struttura proprio della della cordone di saldatura che si ottiene la particolarità di questa saldatrice andando a agire con il materiale su cui poniamo la fiamma è di poter mantenere una temperatura molto bassa quando questa richiesta mentre di innalzare la temperatura fino anche ad oltre i 6000 gradi centigradi quando andiamo a trattare materiali refrattari come il tungsteno permettendoci di andare a scioglierli piuttosto che vaporizzarli in breve tempo inoltre la fiamma che sviluppiamo a una concentrazione proprio per queste sue caratteristiche tale da permetterci di andare a lavorare i materiali con un'estrema precisione addirittura noi possiamo pensare di andare a fare taglio di acciai di spessori anche molto grandi fino quasi ai 20 centimetri mantenendo una precisione che non dico come quella del laser ma è comunque di un ordine di grandezza simile i due giovani start up stanno sviluppando un prototipo che ormai quasi pronto e che punta ad essere sul mercato entro la primavera del 2013 chi saranno i futuri clienti artigiani carpentieri orefici e anche ditte che lavorano il vetro io per oggi mi fermo qui appuntamento alla prossima puntata adesso la nostra scheda fiamma fredda a differenza delle saldatrici tradizionali la cui fiamma supera i 3000 gradi centigradi nel prototipo messo a punto dai due giovani trentini la temperatura di fiamma raggiunge appena i 100 gradi reagendo con i materiali su cui viene proiettata vantaggi la drastica riduzione della dispersione del calore permette una maggiore precisione nelle lavorazioni e l'impiego su materiali più delicati come vetro e metalli preziosi si riduce inoltre il rischio di ustioni accidentali a presto a presto a presto a presto a presto